per non perdere niente dei video futuri controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri buona visione che cosa ci fate qui mi dispiace Ezio mi dispiace tanto che è accaduto era un trucco per farci abbassare la guardia appena sei partito hanno attaccato ancora che corsi a lui la mela che cosa no dov'è adesso l'abbiamo inseguito fin qui ma il bastardo è fuggito sulle montagne vado subito la mia recente ricerca di nuovi fornitori ha dato buoni amici uso solo lana seta e pelle di qualità ho un attaccato portiamolo in piazza manca ancora un'ora grande robo la seguiamolo non far andrei così più veloci più veloci eccolo prendetelo prendetelo addosso non uccideretemi subito ci sarà da divertirsi faccio un passo mette come una puttana maledetta che ci fai qui non ci prendiamo il progetto 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 godi basta basta oh 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 non fermarti fai bene a scappare ti appenderemo il primo e così hai di nuovo il tuo bottino ne valeva la pena tutto questo sangue un oggetto di tale valore non resterà a lungo in mano tua staremo a vedere quali miserie nascono dall'avidità requiescati in pace adesso lo sto perdendo aspetta non chi sei? fermo non aprirlo ma adesso non 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 abbiamo ancora vivo. Stai bene? Che ti è accaduto? Io non lo so. Per fortuna una guardia ti ha trovato sulle colline, vicino al cadavere di che corsi? Sì, quello lo ricordo. Aspetta, c'era un terzo uomo. Ha preso la mela. Chi? Portava una veste nera, come un monaco, e credo rimancasse un dito. Sì, Caterina, devo andare, subito. Ti pareva? Allora ti servirà anche questa. La mappa di cui parlava Nicolò? Tuo marito? Ex marito, prego. Giuro chi avrebbe trovato la posizione di tutte le pagine del codice. Senza questa potresti anche trovare la mela, ma non la critta. Sai, nelle paludi qui vicino c'è un'abbazia dove ho visto dei monaci con vesti nere. Io inizierei da lì. Ora va, trova quello stramaledetto monaco. Credo che mi mancherai, Caterina. Oh, lo so bene. Grazie.